Sì, siamo qui sulla spiaggia di non so dove è questo è un panino proprio giusto, giusto con i muggini, lo possiamo innescare, sono un gran pavesi, poi abbiamo un palloncino già molto elastico, ora leghiamolo per benino, un bel nodino, noi lo mettiamo su perché deve tenere su il panozzo perché il panozzo serve proprio per le orate, le occhiate, soprattutto le occhiate, e sì, un bel nodo, teniamolo, è un drifting, è un drifting dalla spiaggia, guarda là, guarda là, zang, 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 lo tirano giù e tac, ecco un bel lancio a self casting, e vai, plof, laggiù in fondo, in fondo, in fondo, delle onde, più alte, alte, zang, 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 bellissimo. Vieni, 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 vai, vai, piglialo, 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 piglialo. Oh la barca di ho capisce, ah ho capisce, guarda come galleggia, Mh, meno male. Eh no, è un casino, sì sì, la mattina presto non ci si fa. E fa anche un pochino freddo, eh, un pochino, è un freddo budellino. E che vocevo fare, è così, stamattina, ma dura, è dura, è dura, sì, poi ho una botta incredibile, fa un po' strano, è moito, ma non è che sarà stato bene. Sì, questa è, diciamo, una pesca allo Scherrano, sì, la pesca allo Scherrano è laggiù, però noi siamo qui, eh, lo so, lo so, ma è perché noi siamo alternativi. Usiamo un murinello Snige della Loige, da 120.000 libri, ma ci basta una libra sola, per lo Scherrano, con una frizione molto delicata. Con il filo arancione. Eh sì, questo è un filo arancione, è molto importante perché vediamo la lenza dov'è, e se non è, è, non si sa dov'è. È meglio saperlo perché con la frizione poi recuperiamo, e andiamo a insidiare lo Scherrano nel fondale alto delle alghe. Questa è la vostra canna, preferite. Alta. Sì, sì, sì. Noi peschiamo solo un stelto. È importante il retino, il retino è importantissimo perché due, due ne possiamo prendere mentre uno guida. È molto importante. Andiamo a insidiare lo Scherrano, è importante. Questo è il recupero, diciamo, per insidiarlo. Strike, strike, strike. Lo vedo, lo vedo laggiù. Eccolo, eccolo. Eccolo qua lo Scherrano, è preso a sping, che incredibile. Eh, insieme. A bilancino lo facciamo con i reali, ma qui al mare lo facciamo con gli Scherrani. Con gli Scherrani che ci vuole fare. E questi abbiamo. Ed ecco qua il rilascio dello Scherrano. Che noi siamo sportivi. Molto sportivi. Lassù, sì, è importante andare a vedere dove ci sono i pesci che nuotano. Perché è sempre da quella parte. Perché vanno sotto e ti recuperano il piano. E sulle alghe, sempre sulle alghe. Esatto, sì. Si nascondono e noi sulle montagne andiamo a vedere. Si scende piano così. Dall'alto li guardiamo. E però comunque sono sempre quattro se ne prende. C, dieci, dieci. Pieno, pieno. Sempre di più. Ma a volte anche quattro in bocca li prendono, nuotano e poi saltano. Eh sì, dentro, però sotto le tane è difficilissimo. Veloci. Vanno veloci. Mmh. 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 Eh sì, sì, eh, sono stanco. Mmh. Ecco la nostra seppiolina. Eh, lei ci dirà. Lei ci dirà che cosa succederà domani in questa giornata pesca. Oh, sì. Eh sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 ok. E scorfano. Eh ragazzi, anche scorfano ci dovrà dire... Oh, sì, 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 sì. Ok. Bene. Perfetto. Grazie a tutti